Pochi punti essenziali che ci danno l'idea di concentrare informazioni ma soprattutto dare evidenza alle attività che sono state portate avanti al fronte del Senato. Avremo una breve introduzione che si porteranno in questo caso Sergio San Giorgio e Ormella Gova, che ci porterà in questo senso all'apertura, dopo di che la presentazione dei risultati della ricerca da parte di un ricercatore Eber, in questo caso Giulio Tamburini, e a seguire ci saranno le testimonianze aziendali. Abbiamo Gera e Cablo Tech che verranno a presentare le attività che hanno sviluppato con Fondo di Senato assieme ai progettisti di riferimento. A seguire ci sarà una piccola attività di consulenza in diretta, così l'abbiamo chiamata, una cosa molto semplice, vi coinvolgeremo, soprattutto per chi fa l'attività imprenditoriale, vi chiederemo di compilare una scheda, di scrivere le questioni che secondo voi sono un gioco nella vostra impresa e cercheremo di fare una brevissima consulenza in diretta a video per capire come risolvere queste problematiche. Questo per dare il lato alle attività che vengono appunto sviluppate da Fondo di Senato. Vi ricordo che sono disponibili, in questo senso, 110 check-up aziendali del valore di 2.000 euro che verranno date proprio alle aziende aderenti per la prima volta a Fondo di Senato. Quindi un'attività di promozione importante. Ora lascerei la parola, in questo caso, anche per questione di cavallerato, a Ornella Bova, CNA Iula, il direttore del CNA. Prego Ornella. Buona. Grazie a tutti.